Un uomo che va dal medico, guardi dottore mia moglie purtroppo più passa il tempo più sta diventando sorda, ormai non mi sente più quando le parlo, è un macello tutte le volte, quindi bisogna vedere, me la dovrebbe portare, devo valutare la gravità del caso, del resto sono cose che succedono con l'avanzare dell'età, non è certo un caso isolato. Comunque lei mi sappia intanto dire un po' la gravità della situazione, ma io non so da adesso dirle bene, allora faccia così, vada a casa, entra in casa, le chiede una qualsiasi cosa, se non risponde va avanti un paio di metri, fa qualche passo e richiede sempre la stessa cosa ma con lo stesso tono di voce però, non alzi la voce, sempre con lo stesso tono di voce. Se ancora non risponde continua ad avvicinarsi finché si rende conto quando finalmente sente quello che dice e poi me lo dice, va bene? Va bene dottore, allora farò così. L'uomo torna a casa, come entra in casa? Cara, che hai preparato per pranzo? Fa due o tre passi in avanti. Cara, che hai preparato per pranzo? Niente. E continua così finché non arriva a 20 centimetri dalla moglie. Cara, che hai preparato per pranzo? Il risotto coi funghi, so quattro volte che te lo dico. Non arriva a casa, che hai preparato per pranzo?